E' durata pochissimo la fuga dei tre che ieri mattina hanno effettuato una rapina non armata in uno sportello bancario di Giulianova. I tre, Giulio Latorre, Flavio Attolico e Michele Magliardi, tutti pugliesi, stavano tornando a casa quando sono stati fermati e arrestati dai carabinieri di Bari. All'appello manca un quarto componente della banda, che è ancora latitante ma che è stato già individuato dal momento che era evaso dagli arresti domiciliari, ai quali era sottoposto con il braccialetto elettronico. C'è stata una sinergia operativa tra i carabinieri terramani e quelli pugliesi. Abbiamo potuto fare in maniera molto rapida i riconoscimenti fotografici e mentre noi lavoravamo, loro stavano raggiungendo casa, li abbiamo presi mentre stavano ritornando tranquilli presso le loro abitazioni. Sono state utili anche le immagini delle telecamere di sorveglianza? Senz'altro, e poi una intensa e proficua attività info-investigativa. Il bottino lo avete ritrovato addosso? Avevano i soldi? Non tutto, perché era un bottino molto piccolo, 3.200 euro. 2.200 l'abbiamo trovato, il resto non si sa. Li avevano spesi? Probabilmente per strada.